Tutelare il verde pubblico di Campobasso, sulla base di questo obiettivo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comune, la Scuola Superiore, Pilla del Capoluogo e l'Università. Metteranno in campo azioni comuni nell'ambito del censimento degli alberi monumentali e dell'intero patrimonio arboreo della città, come prevede la legge. C'è stata anche una mozione del Movimento 5 Stelle sul verde pubblico, un protocollo che rientra in quell'ottica di città giardino di cui si parla da anni, ormai è stato spiegato. Nel momento in cui ci sarà l'elenco degli alberi monumentali regionale, perché così dice la legge 10 del 2013, chi abbatte o danneggia per corpo un albero monumentale può essere sanzionato da 5.000 a 100.000 euro, lo prevede la legge 10. Il monitoraggio deve essere completato come prevede il protocollo d'intesa entro il 15 luglio di quest'anno, quindi 15 luglio 2015, perché il Comune deve trasmettere gli elenchi degli alberi monumentali, l'elenco degli alberi monumentali della città di Campobasso alla regione Molise. La regione Molise ha poi tempo per vedere se questi alberi rientrano nella definizione di alberi monumentali e dopodiché avremo un'altra cosa molto bella per la cittadinanza, perché avremo delle mappe georeferenziate che ci consentiranno, semplicemente cliccando, di individuare in quale zona della città di Campobasso sono presenti questi alberi. Verranno censite anche le piante allergeniche, un'iniziativa quella contenuta nel protocollo che vedrà gli studenti del Pilla in Campo in un vero e proprio laboratorio didattico. Gli studenti dell'Ipsar noi attiveremo questo monitoraggio, studieremo le piante, guidati comunque dall'Università degli Studi del Molise, che avrà quello che è il compito scientifico e anche il monitoraggio di tutte le schede che andranno a compilare i ragazzi. L'Università metterà a disposizione le proprie competenze scientifiche. L'Università ne ha diverse di altissimo livello nel settore forestale e agrario, dunque per noi è venuto naturale impegnarci in questa bella iniziativa. Il Rettore Palmieri ha poi confermato quanto annunciato dopo la visita del Papa riguardo l'area dove atterrò con l'elicottero all'Università. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha recentemente approvato un progetto redatto dai colleghi dell'area forestale e agraria. Manterremo la destinazione funzionale anche all'atterraggio degli elicotteri, ma sarà uno spazio verde destinato ai nostri studenti, ma direi ai giovani e alla città di Campobasso.